E dopo la protagonista donna andiamo a conoscere il protagonista uomo, un altro grande attore di teatro, almeno così mi è stato suggerito, non suggerito, detto dal regista perché io ancora non ti conoscevo, ti conosco adesso e quindi adesso parlami un po' di te, quando hai iniziato a fare teatro? Allora nasco con il teatro, ho avuto anche delle esperienze per il cinema, tanta televisione, però tutte le volte che ho avuto possibilità di fare il teatro, praticamente sempre, ho privilegiato il teatro perché è stata la mia prima scelta, il mio primo amore e la mia prima necessità. Quindi come tutti gli attori che prima di tutto fanno teatro, posso dire che tu sei un attore vero, perché per la mia esperienza nel campo, gli attori veri sono quelli che fanno teatro principalmente, perché il cinema è a tagli, se una scena non viene bene magari la ripetono anche 50 volte, fino a che funziona, almeno per il regista, oppure tante volte il regista si deve anche accontentare come ho visto io e come ho fatto io nei miei lavori, però diciamo il pubblico ce l'hai davanti, se sbagli ti prendi i pomodori in faccia. Sì, diciamo che la nostra seconda possibilità è il giorno dopo, è la seconda recita. No, ma dico, se non sai le battute, se te scorti le battute e te impalli, te fai, va beh, si può improvvisare magari, però è una cosa diversa. Diciamo che un attore di teatro, soprattutto quando frequenti una scuola, impara il mestiere, sul campo, è come imparare a fare il pane, è come imparare a fare un dolce, è un lavoro di artigianato e questo ti dà struttura, ti dà forza, ti dà consapevolezza, ti dà una preparazione. Poi per carità ci sono tantissimi attori di cinema che non hanno seguito un percorso di formazione che sono bravissimi, ma lì sono delle eccezioni, sono persone che hanno il loro talento e quindi diciamo che ognuno ha una storia differente. C'è anche un po' di fortuna lì, perché tanti grandi nomi, specialmente in America, li costruiscono, no? Il personaggio lo costruiscono, quindi il cinema, ripeto, è una cosa diversa, ma il teatro è veramente la base di un attore, giusto? Sì, dovrebbe essere la base di un attore. Io ho avuto solo... La preparazione, il teatro ti dà i mezzi per poter raccontare, per poter raccontare una storia, per poter esprimere, anche in spazi diversi, tu pensa che un attore può o dovrebbe, perché poi in realtà il punto di partenza è lo stesso, sia per il cinema, la televisione, il palcoscenico piccolo, il palcoscenico medio, il palcoscenico enorme. Quello che tu praticamente fai davanti ad una telecamera è paritetico a quello che fai al teatro di Epidauro, con la differenza che devi dosare il mezzo, il punto di partenza è lo stesso e poi i mezzi quali sono? Il corpo, la voce e rendere praticamente più ampia la tua espressività, questo è. Però non c'è differenza, infatti molto spesso ti chiedono, preferisci fare il cinema, la televisione, il teatro, in realtà il lavoro è lo stesso, siamo noi che arriviamo, è come mettere l'acqua in un contenitore diverso, ti adatti in qualche modo, ti uniformi alla situazione che hai da riempire, ecco, in questo senso. Allora abbiamo parlato di teatro, abbiamo parlato un pochino di te, oltre il teatro cosa è il tuo hobby? Hai un altro hobby oppure hai soltanto questo? Beh diciamo che tutto quello che fa parte nella mia vita ruota, ma non è un lavoro per noi questo, è un grandissimo privilegio. È un privilegio e un piacere. Ed è un gioco, anche se è un gioco, come diceva Pirandello, che va fatto seriamente. Quindi tutto quello che faccio durante il giorno, in realtà, a parte il vivere, mangiare, nutrirmi e tutte le cose basiche, diciamo, per un essere umano, ruotano un po' attorno al mio lavoro, quindi leggere, studiare, ascoltare musica, vedere delle mostre, cioè nutrirmi di bello, conoscere delle persone anche, perché no? Il nostro è un lavoro fatto. Mangiare cultura? Ma sì, però detto così sembra mangiare cultura, no, vivere. Vivere, 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 neanche la cultura, vivere la vita, vivere le persone, incontrarle, sondarle, investigare, capirsi, capirsi anche attraverso le altre persone, cioè è questa, diciamo, l'avventura bella della nostra vita, no? Quella di poter incontrare una persona, come ci siamo incontrati noi oggi, è capire quello che può accadere da questo incontro e soprattutto che cosa questo incontro ci può lasciare. Esatto. È la stessa cosa che accade quando prendi magari una pièce tipo questa, quella che stiamo rappresentando, la leggi e in un modo o nell'altro la tua, diciamo, sensibilità o insensibilità alla tua cultura, alla tua preparazione, il tuo essere uomo si deve confrontare con quel pezzo di carta scritto da un'altra persona, in questo caso da Veroni Coloni, il Copione, e che confrontarsi e capire che cosa c'è di te stesso lì dentro, che cosa c'è di molto diverso, cioè diventa una bellissima investigazione, è una grande formazione, è una crescita, è un'opportunità di condivisione come è stata anche in questo momento con i miei colleghi, con Daniele e con tutte le persone che hanno fatto parte di questo progetto. Allora, a tra poco per lo spettacolo, ci vediamo io in platea e voi sul palco, però non abbiamo detto una cosa importante, il tuo nome mi sembra che non l'abbiamo detto. Allora, io mi chiamo Maximilian Nisi, nome che mi è stato dato già un nome d'arte in nascita, mio padre aveva già deciso molte cose. Di che origine sei? Sono un meticcio, sono un bastardo, nel senso che ho tantissime contaminazioni, c'è di tutto, dalla Germania alla Grecia, il sud dell'Italia, sono nato in Emilia Romagna, c'è veramente di tutto, la mia famiglia ha un albero genealogico che è 12 volte questo che ci sta di fronte. Di tutto e di più. Di tutto e di più, però questo in realtà mi ha reso molto vicino a molti popoli, a molti paesi, a molte sensibilità. Ho fatto adesso uno spettacolo che parla di Istanbul, lo scorso spettacolo che riprenderemo il prossimo anno e mi sono sentito veramente molto, molto, molto vicino a quelle, ma già è stato a casa dappertutto e questa è la possibilità. Sei cittadino del mondo, in un certo senso. E mi piacerebbe salvaguardarlo questo mondo, visto che è un mondo meraviglioso che purtroppo stiamo in qualche modo distruggendo. Stiamo un po' distruggendo, non un po', tanto. Allora, in bocca al lupo per... Nutriamoci di bellezza, nutriamoci di cose belle. In bocca al lupo per tra poco. Grazie. E ci vediamo, come dicevo prima, lo spettacolo. Per lo spettacolo. Ciao. Ciao. Ciao.